Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo signori Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati che siamo sesti, siamo a un punto, e che cazzarola se però mi cambi la castiglia quando sto a parlare Siamo sesti, due partite in meno rispetto al Bolton che è dietro di noi, una partita in meno rispetto al Forest Green che è dietro di noi E se abbiamo un pari punti col Bolton e un punto in più rispetto al Forest Green Siamo nella cacca signori, quando si dice proprio essere nella cacca, siamo nella cacca Abbiamo perso tutto il vantaggio che eravamo riusciti a accumulare nei video precedenti, l'abbiamo perso tutto Prima di partire dal video signori però io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale Vi ricordo di iscrivervi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Maullo941 E tramite social vi aggiorno su quando escono i video e sulle live che andiamo a fare sia su questa piattaforma che su quella viola Mi trovate anche là come Maullo941, ovvero sulla piattaforma quella degli streamer Ultima cosa, non meno importante, ringrazio i miei due abbonati Ovvero Ombre Oscure e Magic Game Ita Che sono i miei due abbonati e abbonandosi a un determinato livello hanno ottenuto la possibilità di essere sponsorizzati Trovate il link in descrizione sotto nei video dei loro canali Dei due signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok, allora, Wilding vuole giocare Allora, intanto andiamo a parlare con Wilding, così lo facciamo sta contento Lo tiriamo su di morale Ci penserò, ci penserò, Wilding mio Dovresti giocare, perché se non ricordo male questa partita devono giocare i titolari Se non ricordo male E infatti la giocano i titolari Te sei titolare, quindi siamo a posto Allora, signori 10 aprile 2021 Contro il Barrow Non so neanche dove sia in classifica Il Barrow, dovremmo informarci Realmente su contro chi andiamo a giocare Ma va bene lo stesso Simulazione veloce Incrociamo tutto l'incrociabile, signori Perché dobbiamo iniziare a risalire la classifica Come se non ci fosse un domani Che famo? Vinciamo 2 a 1 Bella così Dai è così Gol di Stockholm al settantesimo Che ci leva le castagne dal fuoco Al primo assegnato a Lett Smith Ammonito a Lavandino Va bene così Va bene così Tre punti importantissimi, signori Tre punti importantissimi Il mio allenatore in seconda In uno dei commenti dello scorso video Se non ricordo male Mi ha dato un suggerimento di cambiare il ruolo a un determinato giocatore Ma io non me lo ricordo Sono onesto Non mi ricordo Oh Stockholm è diventato equilibrato Bravo Stockholm Sei un tipo equilibrato Ci si può fidare di te Sono contento E quindi che dobbiamo fare? Cambia giocatore Indietro Hai completato Eh perfetto Continua a allenarti come equilibrato Amico mio Sì Non migliori niente Praticamente rimani stabile Ma hai quanti anni? 27 anni Continua a lavorare così Bravo Bravo Abbiamo levato a sta notizia lì? Sì Perfetto Wilding è contento per la magnifica vittoria Ci voleva Ci voleva Siamo saliti in quarta posizione A 68 punti 68 Buono Abbiamo due partite in meno Rispetto a Bolton e Layton Buono Due punti in più Buono Davanti se ne sono andati Praticamente Allora signori Ricordiamoci da dove eravamo partiti E dove stiamo arrivando Quindi dico Se noi riuscissimo Anche solo A raggiungere i playoff In questa stagione Già sarebbe tantissima roba Dai forse Allenarsi 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 Come se non ci fossero domani Signori Dopo Vabbè Wilding Abbiamo capito Che sei contento Quella della bella vittoria Non rompere ancora le scatole Dico Qua sono tutti belli Belli esercizi Ah 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 I titolari si sono allenati Prossima partita Contro Questi me li ricordo Chi so Chi sono Che non Il simbolo me lo ricordo Ma non ricordo Chi cazzarola sono Dai 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 Questi aspetto Squadra titolari Ah 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 Bravissimi Allenatevi così Come se non ci fossero domani Miglioriamo tutti quanti Signori Allora Arriviamo alla prossima partita Che è contro Le aquile Chi so questi Porca miseria Chi sono questi Quanto ci sono state Delle estrazioni Della Coppa UEFA Contro Il Walsall Ok Che è 14 Ah me lo dice Già lì in alto A sinistra Che posizioni sono Oh Wilding Mamma mia Proprio se non ti rispondo Ci rimani mai Sì Ottimo lavoro Ottimo lavoro Ottimo lavoro Wilding Bravo così Bravo Contento Contento Wilding Allora Contro di Walsall Che sono 14 Signori La I titolari sono carichi Io direi di non rischiare E scendere di nuovo in campo Con i titolari Signori Non possiamo Fare altri passi Falsi In campo con i trentolari Il 18 aprile 2021 Signori Incrociamo tutto L'incrociabile Abbiamo bisogno di una vittoria Pareggio Ai 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 Ha munito Mellor E' entrato Mel Gibson Per Mellor E sto con L'appareggiata Al 51 Va bene Va bene Un punticino Meglio un punticino Che nessuno Come si suol dire Meglio un punto Che nessuno Almeno Manteniamo la quarta posizione Con un punto di vantaggio Sul Forest Che ha una partita in più E 3 punti di vantaggio sul Doldam Athletic Bene, il Colchester ne ha 10 in più rispetto a noi Salford City già sta in Ligue 1 Mamma mia, mamma mia Già stanno in Ligue 1 quelli Questi che stanno a fare? Stanno allenando ancora i titolari Va bene, allena Miura si allena Miura continua ad allenarsi Ha 54 anni Fa paura sto ragazzo, signori E no, andiamo a giocare contro lo Salford, signori E qua le pigliamo pesantemente Le pigliamo pesantemente Mamma mia Ancora i titolari si stanno allenando Ma salirono solamente i titolari? Non lo sa questa cosa Arriviamo alla partita contro il Salford, signori Arriviamo alla partita contro il Salford Che è primo in classifica Prima in classifica Vediamo un attimo nel calendario Quante partite ci restano? Il Salford ad aprile E poi abbiamo Questi che non so chi siano Questi altri che non so chi siano Ultime due partite a maggio Ed è finita il campionato, signori Tre partite e chiudiamo il campionato Attenzione Non me l'aspettavo questa Rullo di tamburi Rullo di tamburi Tre partite e chiudiamo il campionato E poi penso ci siano i playoff Penso Allora, giochiamoci questa contro il Salford E poi ce ne giochiamo un'altra Così l'ultima Poi nel prossimo video Eventualmente ci giochiamo l'ultima E eventualmente ci iniziamo a giocare i playoff Sperando che vadano bene Sperando che ci siano i playoff, signori Perché non ricordo come funziona assolutamente Contro il Salford Giochiamo con i titolari Per forza Non ci sono cose strane Simulazione veloce, signori Possiamo incrociare l'ingrociabile Ma penso che prenderemo una pagaiata Di quelle che si ricordano Infatti 2-0 del Salford City Mamma mia Siamo messi male, signori Siamo messi male Siamo messi maluccio Maluccio, maluccio Bolton ha perso Non era sotto di noi Bolton Siamo quinti ancora Ok Con una partita in più rispetto al Forest Green A pari punti Una partita In... Vabbè Abbiamo una partita in meno rispetto al Forest Green E Oldham Ma abbiamo gli stessi punti Il Bradford che è settimo Ha una partita In... Ha una partita De che? Ha una partita Allo stesso numero di partite giocate come noi E ne è fermo a 66 Allora Andiamo avanti, signori Facciamo invece un'altra cosa Eh, basti, sti allenamenti Porca miseria Sì, sì Allenatevi Allenatevi Bravi ragazzi Così, così Bravissimi Arriviamo al primo di maggio, signori Che dovrebbero arrivare gli osservatori Uh, coincide con la partita al primo di maggio Arriviamo allora al primo di maggio Arriviamo al primo di maggio Arriviamo al primo di maggio Vediamo il... Gli osservatori cosa ci portano Che li abbiamo mandati in zone nuove E la prossima partita la giochiamo nel prossimo video Non la giochiamo oggi, signori Allora Reso conto È cambiato qualcosa in classifica? No, siamo sempre fermi tutti lì Reso conto Squadra mensile Non sono arrivati gli osservatori Bah Deluso Pesantemente deluso Pensavo arrivati dagli osservatori Invece abbiamo la partita contro l'ex L'ex eter che è ventitresimo Signori Eh, che dire Eh, la giochiamo Ma sì, dai, giochiamola Chi se ne frega Con i titolari Chiudiamo in bellezza Dai, voglio una vittoria Sono ventitresimi Voglio una vittoria Chiudiamo con una vittoria Dai, dai, dai Ci credo Incrociamo l'ingrociabile, signori Ci credo Vittoria Pareggio, no Il pareggio, no Di Wilding al sessantasesimo Sessantasettesimo È uscito Stoccono per Aladino È entrato Pringles per Sullivan Mamma mia Sto pareggio non ci voleva Che hanno fatto gli altri? Che hanno fatto gli altri? Siamo quarti a 70 punti A pari punti con Oldham E Athletic Perfetto, signori Proprio la situazione peggiore Che ci potesse capitare La situazione peggiore Che ci potesse capitare Siamo all'ultima partita Siamo fuori casa Con del Forest Green Se non sbaglio E ci giochiamo tutto all'ultima partita Ci giochiamo tutto all'ultima partita Mamma mia Come ci siamo inguaiati da soli, signori Come ci siamo inguaiati da soli Vediamo un attimo la classifica Sì Sessantasette Oddio Il settimo posto Meshfield ha una partita in più Ed è a 67 punti Quindi in teoria Meshfield ha finito Il Bradford Ha una partita Come noi Ed è a 66 Quindi in teoria Signori Dovremmo aver raggiunto i playoff In teoria In pratica Non ne ho più palle di idea Ma lo scopriremo nel prossimo video Signori Detto questo Io vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao